Mai così pugliese, mai così ricco di pretendenti al titolo. E' il girone H della Serie D 2019-2020 svelato nella giornata di venerdì dalla Lega Nazionale Dilettanti e non privo di sorprese. Smentiti tutti i rumors delle settimane precedenti che avrebbero voluto o lo slittamento del Foggia nel girone F o quello del Taranto nel gruppo I. La Lega Nazionale Dilettanti ha voluto privilegiare il principio di territorialità e allora 11 delle 18 formazione in astri di partenza saranno provenienti dalla stessa regione, la Puglia appunto. Un dato che porta ben 110 i derby in calendario dalla prima alla 34esima giornata su 306 partite complessive e che vede ben quattro capologhi di provincia Foggia, Taranto, Brindisi e Andrea in corsa. Le grandi firme non mancheranno oltre a Taranto, Audace e Cerignola, Foggia e Bitonto che stanno allestendo o hanno promesso di farlo come nel caso dell'Audace, formazioni in grado di lottare per la promozione diretta, c'è da attendersi stagioni importanti da Casarano, Brindisi e Fidelis, senza dimenticare le ambizioni di team Altamura, Gravina e Fasano o la voglia di vivere una stagione serena e priva di patemi del Nardò. Il derby che implicherà il chilometraggio maggiore sarà proprio quello tra Neretini e Foggia, mentre saranno trasferte al scartamento ridotto quelle da vivere per gli incroci tra le murgiane Gravina e Altamura o Andrea e Bitonto. A completare il girone poi ci sono le Campane, Nocerina, Gelbison, Sorrento, Gladiatore Agropoli e le Lucane, Francavilla Insigne e Grumentum Valdagri. La passione non mancherà alla pari delle emozioni e del lavoro per le questure di turno che spesso e volentieri dovranno mettere sotto la luce dei riflettori i cosiddetti incontri a rischio. Basti pensare che ogni giornata avrà almeno due derby tra formazioni pugliesi in programma. In attesa di conoscere i calendari e stilare le roadmap, buon calcio a tutti con la D maiuscola.